Iiii ragazzi bentrovati in questo nuovo video, sono xd subaru baracca cacca oppure semplicemente subaracca insomma modo per accorciare e siamo ritornati su geometri dash praticamente raga volevo provare visto che diciamo che nello scorso episodio sono partito col piede sbagliato nel senso che forse ho detto aspetta ma forse sono riuscito a fare i primi due livelli cioè forse riesco a fare anche gli altri perché il secondo livello era arrivato diciamo a 95% mancavo solo un 5% e quindi sono riuscito a con metallo vabbè vabbè manchissene e quindi praticamente volevo provare a fare cioè se riuscivo a fare anche cioè questo qua che era arrivato mi pare al 18% quindi inoltre raga questi giochi qua bisogna farli proprio con la testa fresca perché altrimenti ti girano gli occhi infatti adesso già mi sono mi sono appena svegliato e quindi diciamo che non penso che sarà facile quindi praticamente dovrei diciamo abituarmi diciamo ecco così se posso dire così perché ok però devo riuscire lasciamo perdere che è meglio comunque dicevo devo lasciamo perdere che è meglio comunque stavo dicendo dovrei riuscire a a stare in silenzio perché io mi mi deconcentro ecco già mi girano gli occhi porca puttana ma perché mi girano subito gli occhi non ho capito boh cioè voglio dire vabbè raga mi sa che non ci riuscirò è soltanto questione di pochi secondi perché io mi posso arrendere a questi giochi già non riesco a fare mezzo metro che già mi girano sia gli occhi che le palle anzi prima mi girano gli occhi ma perché non salta poi non ho capito sta cosa questa cosa che non salta boh vabbè lasciamo perdere che è meglio e vabbè dai ce la posso fare dai non è così difficile difficile nel senso che ma io clicco perché non salta vorrei capire questo cioè qualcuno mi dovrebbe spiegare il motivo per cui questo quadrato non salta ma salta guardate guardate che infornito ma guardate che infornito che infornito ma lo facciamo apposta no è che se lo facciamo apposta io che potrei all'altro sono arrivato al 59% quindi forse dovrei almeno battere questo record ma salta salta sempre nello stesso fottuto posto di merda porco lei no ma io non ho capito sto quadrato qua e ma non lo so ma questo qua c'è il perimetro sminchiato non ha senso andiamo cioè voglio dire nello scorso episodio avevo superato in due minuti l'avevo superato quindi diciamo ok dobbiamo fare lo stesso errore porca puttana no eh l'ellino cadro vaffanculo cadroia brocca miseria no salta 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 ma porca puttana non è possibile non ho capito perché questo qua non salta cioè è troppo sminchiato troppo troppo sminchiato o forse sono io che mi confondo perché mi gira la testa non lo so vai non sbagliare perca troia non sbagliare tra l'altro non ero mai arrivato a sto punto ok speriamo che non ci stiamo manco il pezzo con vaffanculo ah merda dai ma salta perché non salta dai ci posso fare vai 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 non sbagliare che ti do un pugno in bocca vaffanculo cioè raga questo qua non salta vaffanculo ok dai salta 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 cioè raga io veramente non lo so come devo fare con questo ma c'è veramente una cosa impossibile ok dai concentrazione dai salta devi saltare non devi fare come cat mario salta salta cioè io salto e non salta io salto e non salto salta non salta salta non salta eeeh vabbè raga eeeh dai almeno questo allora speria cazzo almeno questo no almeno questo questo qua no cioè voglio dire dai almeno riesci a fare mezzo metro o non riesci manco a fare mezzo metro porca troia dai dai che mi stanno girando le palle ok no il pezzo no il pezzo che ho qui oh cazzo ci sono più i quadrati nello spazio da quanti in qua porca troia vaffanculo cazzo vaffanculo cioè porca puttana pure i quadrati ci mancavano soltanto i quadrati porca vaffan non salire troppo su cioè troppo oh vabbè lasciò dai 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 non perdere la concentrazione una rinnovando 95% vada t'ammazzo 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 cadroietta dai vada che t'ammazzo 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 c'è non c'è이스 gusti che può giocare a sta roba di me ci sta proprio gusto ragazzi porca troia dai no 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 per favore no 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 ti ammazzo la moglie tutti i tuoi figli tutti i tuoi figli tutti i tuoi figli ti ammazzo tutti i tuoi figli ti ammazzo ti ammazzo dai no sbagliare porcalello la salta ma perchè non salta mi dovete dire perchè non salta questo me lo dovete dire vabbè raga faccio l'ultimo tentativo poi passo passo al prossimo perchè ce la faccio ovviamente non ce la faccio non riesco a fare mezzo metro che finisco con queste spine del culo della porcalella della sua scena vai 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 ok 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 Avevo fatto un salvataggio di merda Del cazzo Quando il salvataggio riesce Allora un bel salvataggio Quando ho fatto un salvataggio di merda Vuol dire che il salvataggio non è riuscito Lo so questo è italiano E va bene va bene Va bene un cazzo va bene Non ce la faccio Non ce la faccio Non andiamo per niente Ecco perché odio la geometria Ecco perché odio la matematica Da quando ho conosciuto questo gioco Ho odiato definitivamente La matematica La geometria La rettematica Tutto tutto I numeri Tutto 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 di tutto Di tutto di tutto Di tutto e di più Tra l'altro questo qua Non sa manco calcolare Quanto è la percentuale Perché C'è Manco mezzo metro Mezzo metro Fa soltanto 2-3% Mezzo metro Stiamo parlando di mezzo metro Stiamo parlando Di un fottuto metro di merda Stiamo parlando Quindi rendetevi un poco conto Dai Cacca troia Non sbagliare Che ti do un pugno Ti do un pugno Ti do un pugno No 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 cazzo Quella moneta di merda Ma perché ci deve essere Quella moneta di merda Del cazzo No Ma perché ci deve essere Per forza Quella moneta di merda Vaffanculo Ma perché No 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 Non andiamo per niente D'accordo Quadrato di merda Non andiamo per niente Per niente Per niente D'accordo C'è veramente raga Basta Io Ma perché Sto rompendo i coglioni Raga Merda 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 Ehm Raga Comunque è ufficiale Che questo qua È il gioco Ma perché Questo non l'hanno chiamato Cioè voglio dire Di impossible game Anzi Di impossible geometry Cioè Non lo potevano chiamare Così Così facevo meno figure Di merda Vaffanculo Vabbè E ovviamente Io Voglio sempre cercare Di fare le cose Per il verso giusto Ma tanto alla fine Non ci riesco Cioè Vabbè raga È ufficiale Che È ufficiale Che questo quadrato Deve fare una brutta fine Ed è ufficiale Che io devo fare Sempre scleramenti geometrici Eh Già è troppo Che tengo ancora Una roba Che tengo Dei compiti Di geometria Per Per le vacanze Di Natale Vaffanculo Ce n'è fottutamente Possì Allora Io non ho capito Come ho fatto Nello scorso episodio E superare I primi due livelli Cioè Il primo livello Poi il secondo 95% Me lo conto come vittoria Perché sono bello E poi sono riuscito a finirlo Vero quindi Voglio dire Perché non si può accettare Una vittoria Quando Dai 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 Sono a sbagliare Che ti do un pugno in bocca Ti faccio andare A casa Senza perimetro Adesso non andare a sbattere Vicino a niente Vicino a niente Vicino a niente Vicino a niente Scalello Dai E fa affanculo Non ci credo Raga Non ci credo Non ci voglio Credere Non ci voglio Credere Ma è possibile Che era arrivato pure un punto Dove quella moneta di merda Mi ha fottuto Che palle Che è sto gioco È una palla proprio No guarda Guardalo 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 Ma guardalo Ma lo vedi Ma lo vedi quel deficit No ma lo vedi Lo vedi Io l'ho visto Tu l'hai visto Egli non l'ha visto Ma tra poco Questo quadrato L'ha sentito pure Sto merdone di merda Ti faccio andare a casa Senza lati Senza 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 un cazzo Senza neanche Che è te stesso Brutto L'è il mondo Stonzo di merda Ma io ti faccio a pezzi Lo sai Ma lo sai che ti faccio a pezzi No ci deve essere qualcosa Che non va Questo qua è un rubo Non è un quadrato Perché se non salta Cioè non può saltare Non può saltare Se non hai lati quali Non può saltare Cioè non Non può E poi sono io Che non vado bene in geometria Cioè voglio dire Perché non salta Non sa saltare No niente 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 Dai Dai Lello Dai Lello Dai Lello Che ce la stai facendo Dai Lello Dai Lello No ci No 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 Raga questo è l'ultimo tentativo Poi basta Poi veramente basta Perché Non ne posso più No 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 Dai 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 cazzo Dai 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 Ok Ok Quando cazzo Finisce sto livello Di merda Sto rompendo le palle Cazzo Finisce sto livello Basta Sto girando i coglioni Basta 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 E da 82% No Eh no No Per favore No 82% No Non dovevi farlo Vabbè raga basta Faccio l'ultimo tentativo Poi Sono arrivato all'82% Per me Per me Vantaggio Perché basta Non ce la faccio più Ehm Cioè Quindi Basta Dove mi fermo Vi fermo Basta 82% Veramente Troppo Per me Perché Cioè Io non Mi sono impedito In questi giochi Però Vi giuro Che sono impedito Perché Cioè Io non Mi gira la testa E poi vi giuro Che prima sono andato a culo No 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 Perché mi gira No 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 Parapap Ecco Dryout Ad esempio Sono arrivato A 48% Perché No perché sono andato a culo Perché mi sono svegliato Con la testa fresca Adesso vediamo se riesco a farlo Ehm No non c'è No non c'è Vediamo se riesco almeno a fa Vediamo se riesco almeno a fare questo qua Che Mi sembra piuttosto difficile E non so perché Ma i relli difficili Mi riescono di più Non so perché Ma Non chiedetemelo Non chiedetemi come faccio ad essere così stupido Perché me l'hanno chiesto tutti E io non so la risposta Non so la fottuta risposta Che poi tra l'altro Ci stanno pure Le spine stanno pure su queste specie di cubiche E' difficile saltare Dai Ok No 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 Eh Lello Deve morire Ok Ehm Io ho il record di 48% Perché Ero riuscito Una volta a battere il record Che era 48 Dai Ok Ok Dai 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 salta Non salta ragazzi Non salta Ragazzi Credetemi Credetemi se non salta Avete mai giocato Per questo gioco Per pc E vi è mai capitato Una volta che non salta Fateci caso Ebbene E il computer che non salta Non siete voi che Non cliccate il mouse Stavolta sono io che ho cliccato il mouse C'è No Aveva presa la moneta Faceva più punteggi Così accorciava Questo percorso di merda Maledizione Tra l'altro ragazzi Non lo so a che cosa cazzo serve Questa moneta Quella moneta Insomma Però Credo che sia per Imbrogliare Cioè per Imbappinare Il Il cervello Quindi Non credo che serviva Quella moneta di merda Che cazzo è Oddio Che cazzo Al contrario No No E io No al contrario No e a raga No se al contrario No No e a raga Al contrario No Al contrario No Vabbè Ma forse mi devo girare Una volta No raga Vi giuro Vi giuro che questo Non l'ho mai visto Al contrario Vabbè raga Io non ce la faccio Al contrario Se appena arrivo Cioè appena arrivo là Io giro subito il monitor Ok dai Aspetta adesso Giro Ok No vaffanculo Merdo No raga Non ce la faccio Vabbè raga Faccio l'ultimo tentativo Poi basta Passo Perché 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 non ce la faccio Cioè Vedo Che tra l'altro Raga Quello Supera Quel punto Dove sono arrivato Non è il 42% Io sono riuscito Non so come Sempre con la testa fresca Perché questi giochi Per farli bisogna avere La testa fresca Sono riuscito ad arrivare Di più Quindi questo Praticamente Adesso questo percorso Ne manco l'1% Cioè Fateci caso Secondo me 0,1% O secondo me Questa è solo la partenza Che ne so Raga Non lo so Io No No salta Non salta Non salta Non salta Cioè io No 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 Faccio questo Tentativo Perché mi viene da vomitare Perché ho appena fatto colazione Insomma Diciamo So che giocare a questi giochi Appena facendo colazione Fa male Però Lo so Lo so Sono impazzito Ok vediamo se lo riesco a fare adesso Vai 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 Che No ci stavo riuscendo Merda No raga No raga È troppo difficile No raga È troppo difficile Troppo 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 E vediamo questo Questo qua invece Che sono arrivato al 52,9% Non so come Non so come Ma ci sono arrivato Raga Ci sono arrivato Non so come E Volevo vedere Cioè raga Almeno I livelli difficili Riesco ad arrivare Per fino al 51% Rendetevi conto Che la moneta di merda Non so perché Ma mi vuole far distrarre Non so perché Cosa gli ho fatto di male Ok Che mi pare che ci sta pure qua Questa cosa al contrario Se non mi sbaglio No 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 Non andiamo per niente D'accordo Vabbè raga Basta Mi giro la testa Basta Cioè Questa percentuale qua Mi basta E mi avanza Perché Perché non ce la faccio Basta Non ce la faccio Cioè io Più perché non ce la faccio 100% 100% Vabbè 82% Poi 48% 51% Questi qua Sono quelli la sminchiati Quindi Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Vabbè raga Concludo qui questo video Perché Aspetta un attimo Voglio provare a fare Solo una cosa Scusate Allora Allora Questo è il 51% Non mi sembra No aspetta Non mi sembra giusto Che questo livello Rimanga a 48% Voglio vedere un attimo Se riesco a fare 51% No non ci riesco Aspetta un attimo Perché Cioè Non mi sembra giusto Rimanere un livello Di bassa percentuale Perché Non mi sembra giusto Nei miei confronti Quindi Voglio vedere se Ok 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 Quando dico ok Mi sembra di dirare Che io Non so perché Aspettate un attimo Vediamo se ci riesco un attimo Perché voglio vedere Che Madonna Ci sto riuscendo Che culo ci sto riuscendo Che culo di merda Ci sto riuscendo Oddio Tengo la capofre No Tengo la capofre Che merda Non ce la faccio 48% Bassa e avanza Vabbè raga Concludo qui questo fantastico video Mi sono divertito Abbastanza Vabbè Noi ci vediamo alla prossima Qui da XD Subbaru Non vi preoccupate Questo livello qua Ce lo sto facendo così a caso Dopo Diciamo che lo concludo Dopo aver concluso il video Vabbè Noi ci vediamo alla prossima Qui da XD Subbaru Se il nome Diciamo Vi confonde Vabbè Ci vediamo alla prossima Ciao Aspettate un attimo ragazzi Sto riuscendo No niente Vabbè Ci vediamo alla prossima Ciao 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 Lì Ciao Lì Grazie a tutti